Siamo a livello 3, facciamo questa, spezia mistica, dove la troviamo, è più facile perché ti ha indicato le cose, ah eccole, queste casse, ok posso salire da qua, abbastanza semplice pure questo va qui va lì e poi va anche una strada lineare, quindi un'altra ho trovato la strada a a a a a a to vediamo se ci dice qualcosa ah hanno aperto la mola non pensi non perché ma mi ricordo un po di capo finalmente posso mangiare anche da qua finalmente non c'era prima la mensa quando l'aprivi vicina più non la molla ah questo è quello con il panzone va bene flottatore am figlio arriva mio mio ciao 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 è bello Paccato! 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 Ho girato! Tu lo è abbenenato! Paccato! 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 dai primo giro buono seguiamolo toh No! No! May the heavens have mercy on you! Oh! No! What the hell? What the hell! Oh! 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 Go! Oh. è facile easy vai che brutto è il merito della radia, mamma mia orribile vissimi villaggio facciamola oh un momento di pace sarà presto interrotto da una minaccia vicina a Disney il gallo si 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 bandito mangia uova furfante allora qua stiamo nelle piane sabbiose eccolo no 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 e catturiamola non ce l'ho me ne devo portare però le catture di trappole non ce l'ho 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 è di livello 3 quindi mi sblocca la missione di livello 4 io voglio finire con il livello 3 gioco sporco caccia un barbara non ce l'ho 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 e andiamo a caccia del bar eccolo e è arrivato a qualcosa Grazie a tutti Grazie a tutti I broghi sono quelli Che arrivano i piccoli e arriva il cavacchione Bella gigante Forse guarda lo sono va bene però Che occhi Benefico Sputa pelino Andiamo Ancora zero non sono mai andato Sto proprio qua vicino Eccolo Eccolo è upo qualcosa be careful alla flado la arda Oh, no, 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 no. No! Faccio il progetto! Puoi mettere questo a uscire. Oh! Liable as always It's over for you It's up to something Making a good progress I'm going to need some of this Ok, first phase Faltano We're going to need some of this We're going to need some of this Ok Raggy Missione compiuta Which quest would you like? Oasi di spugna Ludrot reale I'm going to need some of this 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 Ludrot reale Ludrot reale Sì, sì. Non c'è nessuno. E' un po' che è migliore. Sì! He's up to something! Sì! Ma qua nell'acqua, posso m'è? Let's see you get out of this one! Bullish monster! Oh no! Haha, monomara! Tu sii zauważył się? Wiktoria! Special quest is been added! Mostry senza wolto... Aaa, Likidzu! Nocturnal creatures coming out to feast! Find themselves becoming prey... To this long-necked beast! Che mosso strano, mamma mia! Definitivamente deceased! Craven miscreant to show your mug if you dare! But when it turns to face you... You'd rather... And swear... It's perturbing expression... A sight too much to bear... Ah, non c'ha io! Che zuuu! No! Nothing can stand in my way! Yeah! This looks useful! Hello? No! 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 It's time for a diversion! Yeah! No! 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 E' giù qui ma questo è Chica, non sa Chica ma questo è Chica, non ci sono No, 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 no. è l'ultimo cattus ninnolim è un misio di la scotta no let's go Let's see I'll move fast va? va bene, potenziale una riligua ottimo non è soluzione missire delle piane 2 oggi già 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 Sì ok mi mi pi 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 Sperto! Sperto! Potrei mettere questo a te. Let's see Let's see Time to head home Let's go Okay Let's go Well Ah Good job buddy All in a day's work Nothing can stand in my way Ok Capito se quei pesci li posso pescare o meno No, no. ci sono due andiamo ancora di qua e con questo concludiamo quelle tre stelle grazie